Ciao a tutti quelli che mi seguono, sono Ponte Langorino, Porta Mollinella! Ah, volevo ricordare ai fratelli Maina, cioè Andrea Maina e Peplenco, che oggi abbiamo Mito 4 a 2 e quindi io porto fortuna. Sorrisone? Se volete che io venga, vi dovete pagare. In cosa? In donne. Sorriso? Mia, ti fai facciare! Ciao a tutti, grazie agli invitati di venire il 6 aprile alla mia festa. Vi aspetto numerosi, soprattutto donne. Bevo l'ananasso così anch'io le donne. Meraviglioso! Io per il momento sto facendo la differenza, sono Ponte Langorino e sto facendo il Natale. Ciao!